Le unghie sono una parte costituente della nostra mano e come la mano vengono aggredite continuamente dall'attività che noi svolgiamo dai tensi attivi o da tutto quello che facciamo con le mani. Un elemento che viene spesso trascurato è l'uso delle mani sulla tastiera del computer. L'utilizzare le dita picchiando sui tasti con l'unghia porta a dei microtraumi che sommandosi nel tempo possono danneggiare l'unghia. Quale deve essere l'aspetto di un'unghia ideale? L'aspetto deve essere quello di avere una forma a mandorla, un colorito rosato uniforme, essere lucida, brillante, non presentare striature, il bordo libero deve essere compatto, non deve presentare alterazioni di sorta e deve avere uno spessore anch'esso uniforme. Moltissimi sono i motivi che possono portare alla modificazione dell'unghia, dalle forme geneticamente determinate a quelle post-trauma o da aggressione chimica o anche essere l'espressione di malattie quali l'ichen ruber planus, la psoriasi, l'eczema, ma anche per esempio nella malattia di Down. Quindi l'unghia parla e per questo, per i messaggi che manda, abbiamo il dovere di tenerla in buone condizioni. Come fare questo? Beh, ovviamente proteggendola dalle aggressioni chimiche con l'uso di guanti durante il lavoro, sia nelle casalinghe sia nei lavoratori manuali. Ancora nutrendola, per esempio massaggiandola quotidianamente e possibilmente mattina e sera o comunque dopo il lavaggio e dopo l'asciugatura con delle creme idratanti. Ma per il normale uso per un'unghia che sia in buone condizioni generali, basta anche un massaggio con olio di oliva o l'immersione per qualche minuto in olio di oliva o anche nel succo di limone o ancora utilizzando un mezzo limone nel quale introdurre le dita per qualche minuto. Fatto questo bisogna stare attenti al manicure perché uno dei motivi che più facilmente alterano l'unghia è proprio il manicure mal fatto. L'uso di cosmetici tipo detergenti, solventi, smalti di scarsa qualità espone le nostre unghie sicuramente o quasi sicuramente a danni che poi vanno riparati sempre utilizzando creme rinforzanti perché l'unghia si sfalda, si spezzetta, si frantuma e poi ancora sempre olio, olio, olio per mantenere l'unghia idratata e non permettere che si essicchi e si spezzi.